Quest'anno è Natale, lo vogliamo passare in maniera solidale, vi aspettiamo il 26 dicembre all'Allianz Cloud, per la prima gara di ritorno, il derby con Monza. Vi invitiamo a portare un regalo nuovo per i bimbi del centro Benedetta in Tintino. Regalare un giocattolo ad un bambino e un gesto semplice e spontaneo, soprattutto se moltiplica i sorrisi. Tanti auguri, buon Natale! Buon Natale!